Faccia danza al culetto, faccia danza al culetto E ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo episodio Oggi siamo in creativa, dobbiamo mettere codice a caso Tipo, wow, wow No, no, allora, ci provi tu, se poi tu non ne trovi lo faccio io, ok? Mi sto intrufolando in un posto, allora lo faccio io, Natale Sennò questo non provare il segreto della lappa Sì, aspetta, no, 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 prima vediamo se con lo mio funziona No, non ho trovato niente Aspetta, ok, metto, è di 12 il massimo, vero? 3, 8, 5 Aspetta, fammi contare Ok, proviamo Non trovata Aspetta, cancelliamo e mettiamoci uno 0 Isola non trovata Ma che ci mettiamo? 2, 1, 2, 1 Ma che ne so Isola non trovata Eh, 8, boh, che ne so, mettiamo Ragà, trovata Dario, Isola ha trovata Sì, lo so che l'hai trovata L'hai messa Ti giuro, ho messo tutto a caso Eh, è certo Vero Non me lo aspettavo Secondo me, io dovevo cancellare il video Perché non ne trovavamo mai Invece l'abbiamo trovata Ti mangi, è qualche mappa che già abbiamo fatto Tipo? Non lo so Non la conosco Che cos'è? Io vi ho la partita Ah, quindi è un parkour Ok, facciamo sto parkour Ma No, no, non la conosco proprio Mi sembrava tipo che Ok, l'ho fatta Ho preso il checkpoint Ok Uè Cosa si bisogna fare? Uè, aspetta Perfetto Dai che questo è Ehi Dario, che cosa è successo? Ma qua, come si fa? Ne so io Ah, ok No, non l'ho capito Dov'è? Ah Tu devi camminare dritto Ok Ce l'ho fatta Ciao Ma questo è facilissimo, Dario Eh, togliti Ok Siamo troppo bravi Anzi, io sono troppo bravo Beh, vabbè Grazie, Dario Che cattivo sei Comunque ci stanno regalando un sacco di livelli, eh Perfetto Dario, sto essendo un pro player No Ok Entriamo Dove siamo? Oh mio Dio Sì No, troppo bravo Qualcosa c'è? Oh no Sì, è troppo bravo No Dai che adesso sarò bravissimo Oh No Dai, ce la posso fare Ma di qua è giusto? Eh, basta avanti te Comunque queste con le trappole sono facili Io sono troppo bravo a farle Eh, vabbè Quanti livelli Io sono morto solo sei volte Tu non lo sai che sei morto solo sei volte Se apriti per il botone per il Io sono morto sei volte pure te Iiii No, no Ok, bravo Basta, no Adesso sarò bravissimo io Troppo bravo adesso Eh, lo spero Ciao No Ok Ragazzi, l'ho fatta Iiii Aspetta che qua c'è E' abbastanza difficile Ok Questo è facilissimo Perché? Dai Grazie, Dario No Non è proprio giusto Eh, vabbè Ma senza Che questo già io l'ho fatto prima No Quanti livelli sono? Da Credo 100 dovrebbero 200 No, io pure Eh, ce la sto facendo, Dario Ce la sto facendo tantissimo Ah, perché hai battuto le mani? Come un cinghiale Ok Io ce la sto facendo tantissimo Ok Ma come hai fatto a toccarmi? Che Dario sto essendo un pro Troppo pro Eh, vabbè Qua Ecco Non è possibile Odio questo gioco No Io odio il creatore Di questo gioco No, il gioco Il creatore Ok Sto essendo troppo bravo Raga Scri Sì Scrivete nei commenti Quanto sono bravo Da 1 a 10 Scrivete E se Invece di E anche io scrivete Da 1 a 10 Anche per me Votate da 1 a 10 Quanto Siamo bravi Allora Per me dovete mettere Franciotto Bravo Bravo E per esempio 10 Perché io sono veramente 10 E Dario Quella Eh sì Sì Sono morto 16 volte Ma questo è facilissimo La verità che Forse cosa so fare Com'è No Sì infatti Dario Scrivete nei commenti Da 1 a 10 Quanto è difficile Questa mappa Secondo voi Ovviamente Livelli Che stiamo riuscendo A fare Dario Io sono Non si può fare Questa Dario Questa mappa Si può fare Grazie Dario Sei stato ucciso Io sono passato No Ma come si fa Sì Sono passato di nuovo Perché Dario Si è fatto uccidere Non odio Eh sì Lo so Cosa No 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 Vabbè Tu No 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 Hai usato il cheat Dario Scrivete nei commenti Qua sotto No ma te Non ti ha attivato La cosa No Scrivete nei commenti Quanto È difficile Soprattutto se Dario È un barone Oppure no Eh vabbè Perché io dico Che è barone Eh vabbè Sono sopravvissuto Per un miracolo Eh vabbè Ok rimettiamo Un'altra mappa A caso Eh Mettiamo Eh vabbè Tutto quattro Dopo mille tentativi Ho trovato Un'altra mappa Dario Oh mio dio Eh finalmente Eh ma Ma quanto è passato Da quando È iniziato A mettere altri codici Oh Eh vabbè Eh raga Adesso sta pure entrando Mirko Mirko non sta entrando Non sussurrare Smettila di sussurrare Sì Sì Che stai sussurrando Non sussurrare Sì Invece Vabbè Aspettiamo Mirko Raga ma sta cosa Sembra una figata Per sesga Che cos'è È quella Che ho appena Trovato Io Andiamoci Raga ma che schifo è Raga Raga ma che cacchio è Ma che cacchio sta Ma che è sto coso Ma che sta succedendo Ma che schifezza è Ah Ah ma una mappa di zombie Ah Ma una mappa di zombie Quale questo del nonno Eh Il pompa del nonno Io pure Però questo è molto più forte Eh Ehi Chi Si deve curare Io Eh curati Perché qua c'è Perché c'è un gabinetto Là Ma non si può scendere Dario dove sei Dario Ma Mirko ma tu sei pure Nella mia squadra Sì Ma è finita Sono finiti I zombie Ma chi è Non funziona Ma si dovrebbe scendere L'acqua Oh no Là sotto C'è qualcos'altro Là sotto ci sono altri zombie Ma dobbiamo scendere In qualche modo Però dobbiamo scendere Ma c'è tipo qualche granata Qualcosa Eh Perché ho trovato Di qua si scende Di qua si scende Ok sta venendo No Ah ecco Mirko Non sussurrare Mirko Non sussurrare Mirko Smettila di sussurrare Sì Parli Aiuto Eh sì Che sei Aiuto 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 No No Oh mio Dio Dario Aiuto Oh mio Dio Che sta succedendo Se nel video Non si sente La tua voce È colpa tua Dario Eh Oddio Dario E vabbè Infatti Un po' più Concentrati oh mio dio ma che cavolo ma non possono venire qua ma che cos'è andate via andate via oh no dai aiuto oh mio dio dove siete ragazzi? sto tornando pure io Dario che cosa è successo? no 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 muoio pure io muoio pure io no no ma che cavolo Dario li hai visti come sono impazziti eh? eh vabbè peggio Dario a me a me a me a me no a me ma che ma io muoio due di vita due di vita avete bende no Dario dammi le bende Dario dammi le bende eh ma qua c'è uno ma eh vabbè scendiamo andiamo nell'altro piano ma guarda ma dobbiamo arrivare fuori guardate di fuori ma qua sotto c'è un casino comunque bende mi date bende mi date bende oh vabbè ok oh ma questo no 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 è la fine oh se ce la facciamo siamo fatti eh io no ho bisogno io bende eh vabbè eh vabbè eh la madò eh la madò io devo caricare tutto andiamo al prossimo piano dov'è eh mi date bende no io non me la vede di bende e vabbè eh dov'è il prossimo piano si sto venendo ok ok c'è qualcun altro non c'è nessuno andiamo più dobbiamo cercare bende e io c'ho bisogno di bende ma qua c'è un manicomio lei non ha trovato colpito delle bombe che ti fanno danzare oh no ok rompeteli tutti eh sono troppo forte oh ne ho trovati io eh mi date delle bende vi prego eh non ce le ho non ce le ho ma tu sei scendiamo scendiamo ma fuoco c'è mezzo panchia non fa male eh ma qua si scende tantissimo ma quanto si scende ah c'è quello dorato qui ma quanti ce ne sono di quelli dorati eh vabbè Dario Dario aiuto li chiudo la no 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 dai no no dai basta su sti cosi Dario Dario aia aiuto raga ma qua cosa c'è ok andiamo raga scendiamo 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 aia raga ci sono due tarotti sotto no raga manca aiuto e andiamo ok carichiamo siamo usciti libertà è la moto no 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 meglio non avere la libertà tornare via no oh mio dio ma c'è un casino ma che cos'è e vabbè ma qua c'è un'ora di tagliare il video no 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 oh mio dio raga io ho pochissima vita ok band stiamo scazzando vabbè raga scappiamo mi date band vi prego non l'abbiamo se vabbè non ci credo ne avete un sacco lo so oh mio dio mi so cacato addosso aspetta io pure sto rompendo uno spoiler aiuto raga no 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 io scappo io scappo no 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 non si può aia Dario smettila che non posso correre no 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 pure no pure a me raga non ce la faremo mai magari qualche volta facciamo di nuovo un video proprio in questa mappa vabbè scrivetelo voi nei commenti ok vabbè ragazzi per oggi è tutto ciao Dario Mirko salutate ciao 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 ciao